Dal 2017 Restyling Car di Gennaro Vitale ti assicuro un servizio di alto livello con personale qualificato all'insegna della qualità e della rapidità al giusto prezzo. Siamo un'officina di carrozzeria di circa 1000 metri quadrati all'interno e 2500 all'esterno con due cabine di preparazione ed una di verniciatura. Disponiamo tra l'altro del banco di riscontro con Dima Universale. Da noi verniciatura con garanzia a vita. Gestiamo i sinistri in loco e offriamo il servizio di auto sostitutiva. Siamo a Cava dei Tirreni in via Starza. Ti aspettiamo!